Anche Estra nel catalogo di buone pratiche di CISPEL Toscana, che ha presentato 80 progetti di sviluppo sostenibile per circa 10 miliardi nei settori idrico, rifiuti, mobilità, energia dell'edilizia residenziale pubblica. Estra produce energia pulita. Sono più di 33 milioni di kilowattora prodotti nel 2019 dalla multi-utility da fonti rinnovabili. Sono invece oltre 24 i milioni di kilowattora di energia termica prodotti da biomasse. Una rete diffusa di negozi per stare più a contatto con i clienti. Sono 84 gli store aperti da Estra, la maggior parte 58 nel centro Italia, 28 nelle regioni meridionali, 3 nelle isole. Si estende la rete gas di Montespertoli. Centria, la società di distribuzione di Estra, realizza nel comune fiorentino un intervento per un valore di 409 mila euro tra lavori in appalto e forniture.